Non ce lo chiede l'Europa ma ce lo chiede l'Italia, al di là di questo appunto oggi abbiamo visto le immagini anche di un incontro istituzionale del Premier Meloni con l'omologo dei Paesi Bassi e obiettivamente da questo punto di vista non so se ci possiamo dire come stia andando dal punto di vista anche diplomatico, dal punto di vista delle relazioni internazionali il nostro Premier Guarda è troppo presto per dare un giudizio perché sono passati poco più di 3-4 mesi adesso, è presto è vero che l'Italia comunque ha bisogno di avere un ruolo maggiore in Europa perché se ci dobbiamo stare ci dobbiamo stare nelle migliori condizioni possibili e diciamolo chiaramente ogni Paese che va là è sovranista, cioè ogni Paese che va là fa gli interessi propri perché è chiaro che se voi pensate che davvero i francesi fanno gli interessi dei tedeschi Vabbè però poi se parliamo dei francesi è perché allora vogliamo vincere facile No, perché poi attraverso il politicamente corretto si cerca di instillare nella mente della gente la menzogna Questo è, no? Allora chi va in Europa purtroppo, no? Perché questa l'abbiamo creata, doveva essere un grande mercato e adesso invece ne abbiamo fatto un'unione monetaria Ecco, quindi l'unione monetaria è l'ultima cosa che doveva arrivare Cioè la moneta unica è il fatto di mettere le proprie economie all'interno di un medesimo sistema Visto che quelle economie viaggiavano a ritmi diversi Avevano proprio una fisionomia diversa tra, voglio dire, le economie dell'area mediterranea Non c'entrano niente con le grandi economie dell'area teutonica Per cui, voglio dire, c'era bisogno di una maggiore armonizzazione Questa si costruisce nel tempo, in maniera naturale Quando si vogliono imporre le cose, le cose più belle quando nascono Quando i movimenti sono spontanei Cioè non è che il rinascimento è nato in provetta o è stato imposto da qualcuno No, perché maturano le condizioni Come del resto il barocco Cioè non è che tu prendi uno e gli dici da domani tu sei Leonardo da Vinci Come quelli che dicevano tutti Uno vale uno E vabbè, allora tutti si sentono Leonardo da Vinci, Michelangelo E non è così purtroppo Tutti hanno la medesima dignità di fronte alle leggi dello Stato Questo sì, però ognuno è diverso Ci sono dei talenti Ecco, quei talenti sono al servizio di una nazione E questa diversità purtroppo è marcata E la gente può decidere di questa diversità di talento, dico, no? Per essere governata al meglio E non può avere limiti I limiti dettati da questi recinti, no? Le quote rosa O da altri recinti dettati da leggi ad personas Cioè fatti per rappresentare Ideologie Ideologie, categorie sociali No, fatti per Perché quello è discriminatorio Quando tu crei una categoria sociale O voglio dire un orientamento religioso Piuttosto che un orientamento di genere Che gli affidi una super tutela Cos'è la super tutela? Che se un reato viene commesso ai danni Di quel diversamente cattolico Tu soggiace una pena di anni dieci metti Se quel reato viene perpetrato nei confronti del cattolico Tu soggiace una pena di anni tre Questa è una scorrettezza enorme Si chiamano leggi ad personas Perché quelle ad personas riguardano il singolo Quelle ad personas riguardano la categoria E qui si fanno anche nell'economia Continue leggi per le categorie La legge dovrebbe essere generale Ossia non dovrebbe avere come riferimento Alcun soggetto determinato Dovrebbe essere astratta Ossia non dovrebbe riguardare Nessuna fattispecie puntuale, precisa Dovrebbe riguardare una miriade di fattispecie E dovrebbe essere innovativa Nel senso al palinsesto normativo Dovrebbe aggiungere un quid Un qualcosa in più Ciò che ha disciplinato Certo Ecco, e questo non accade spesso No Ecco, allora cominciamo a fare questo E vedi il paese come si rialza Perché tu in quel momento schiacci i disonesti Perché i disonesti non sono soltanto quelli che prendono i tangenti I disonesti sono quelli che ingannano la gente con la menzogna Che gli raccontano i film e alla gente E questi sono i disonesti C'è tutta una narrazione parallela della realtà Senza ombra di dubbio Perché poi dopo, attraverso questa narrazione parallela Ci sono interessi speculativi sottesi Sottesi perché non si vedono Perché non possono essere manifesti Ma che viaggiano con vagonate di soldi Che è il mezzo per raggiungere altri fini Tra cui anche quello di governare il potere Certo, anzi Quote di potere Anzi Credo che sia veramente poi l'obiettivo E certo Di chi persegue appunto sotterraneamente i propri interessi